Un'Europa democratica non più conservatrice. Un sogno? No, le elezioni europee del prossimo giugno potrebbero far tornare il vecchio continente un'area democratica, al pari di alcune importanti e volevoli nazioni. D'è convinto Roberto Gualtieri, professore universitario di storia contemporanea alla Sapienza di Roma e candidato del Partito Democratico alle elezioni europee. Noi crediamo in un'Europa dei popoli, un'Europa dei cittadini, un'Europa capace finalmente di realizzare unità politica. Questa è la grande sfida dei nostri tempi e questo è il progetto del Partito Democratico e delle forze progressiste del nostro Paese ed è l'unica possibilità che noi abbiamo di affrontare e di superare questa drammatica crisi globale. Un'Europa capace di realizzare grandi investimenti, grandi investimenti nelle energie rinnovabili, nella coesione sociale, nelle infrastrutture, un'Europa capace di formare il suo bilancio e di definire una nuova politica di coesione, una politica per la ricerca, una politica per l'ambiente. Questo è il progetto per cui ci stiamo impegnando. Una campagna elettorale sprint, come è stata descritta in più occasioni. Una campagna elettorale che ha visto Roberto Gualtieri impegnato in ogni dove. Una campagna elettorale in cui Gualtieri ha ascoltato le esigenze del cittadino, confrontandosi, coinvolgendo gli elettori con passione, spirito democratico, appartenenza, conoscenza dell'Europa, sincerità. Perché il PD sulla sincerità basa i suoi principi. Il frutto di una grande operazione verità. Cioè noi stiamo cercando di scuotere il paese dalla nuova di menzogne in cui Berlusconi l'ha avvolto. La gente prende coscienza dei problemi, della gravità della crisi, del fatto che il governo non fa nulla e questo dà forza all'opposizione. Noi dobbiamo, io credo, continuare quello che stiamo facendo. Parlare con i cittadini, farlo con convinzione, con orgoglio, dire la verità. Io credo che la forza della verità è maggiore di ogni finzione, di ogni bugia. Nelle pagine dei quotidiani, nelle redazioni radio e televisive, su internet, impazzano i sondaggi elettorali. Dati confusi che tuttavia hanno una medesima direttrice. Il PD c'è e sta recuperando sempre di più la fiducia degli italiani. Basta uscire di casa e già si respira un'area di cambiamento. Se ne sono accorti soprattutto i candidati, ormai radicati sul territorio, vengono accarezzati dal vento di cambiamento. Io sono convinto che questa campagna elettorale sta spostando gli equilibri nel profondo perché stiamo mettendo in campo la nostra vera forza, cioè i cittadini, la partecipazione, gli iscritti militanti e questo credo avrà un grande risultato che potrebbe essere anche isperato.